Ehi Paolo! Buongiorno signor parroco! Non hai ancora aperto il bar? Senza il tuo espresso, chi mi dà la forza per suonare le campane? Venga su a berlo con me! Ma come mi fai l'espresso con la moka? Don Luigi si fidi, qui c'è tutta l'energia di Splendid Classico. Buono come l'espresso del mio bar. Allora? Sentirai che scampanate! Questo Splendid è un piacere! È il piacere espresso, parola di barista. Caffè Splendid, il piacere espresso.